Una consistente riduzione dell'entità delle condanne di primo grado è arrivata al termine del giudizio d'appello per quattro imputati tutti coinvolti nella max inchiesta antimafia Malleus. Il 33enne Antonio Radicia non era il promotore del traffico di droga che per gli inquirenti sarebbe stato organizzato per conto del clan Rinsivillo. Proprio nei suoi confronti l'apparato accusatorio non ha retto determinando quasi un abbattimento della pesante condanna di primo grado quando i due gruppi del tribunale di Caltanissetta, a conclusione del giudizio abbreviato, gli imposero una pena complessiva di 28 anni di detenzione. I difensori, gli avvocati Davide Limoncello e Paola Turco, sono però riusciti a dimostrare che l'imputato non avrebbe mai retto le sorti di nessun gruppo di spacciatori e non ci sarebbero state prove di un suo legame con i clan. Oltre alla soluzione dal reato associativo sono cadute diverse contestazioni legate a presunti episodi di acquisto e ventità di droga. Alla fine gli sono stati imposti 7 anni e 4 mesi di detenzione, oltre 20 anni in meno rispetto al primo grado, con il riconoscimento della continuazione rispetto ad una precedente sentenza e delle attenuanti generiche. I difensori hanno impugnato la sentenza di primo grado ribadendo la mancanza di elementi investigativi chiari che potessero disegnare un ruolo di rilievo per Radicia, con danne ridotte anche nei confronti di Ivan Casciana e Giuseppe Domicoli. Difesi dall'avvocato Giacomo Ventura hanno contestato i verdetti di primo grado per la difesa, non farebbero parte di nessun sodalizio criminale finalizzato al traffico di droga e legale, ribadito anche davanti ai giudici nisseni. 6 anni e 8 mesi a Domicoli, mentre nel precedente giudizio dal gruppo Lauricella era arrivata la condanna a 8 anni di detenzione e il giudice Davide Salvucci gli aveva imposto 9 anni e 4 mesi di reclusione. 5 anni e 8 mesi a Casciana, che in primo grado era stato condannato a 8 anni e 10 mesi di detenzione, ma era già stata esclusa una sua presunta appartenenza alle organizzazioni mafiose. 4 anni e 3 mesi di reclusione a Baldassarre Nicosia, in primo grado condannato a 9 anni e 2 mesi di reclusione dal giudice Lauricella e a 6 anni dal GUP Salvucci. Gli sono state riconosciute le attenuanti generiche. La difesa, sostenuta dal legale Cristina Alfieri, ha respinto le accuse formulate dai PM della DDA di Caltanissetta, che ritennero Nicosia appienamente coinvolto nell'organizzazione. In appello invece la difesa ha ottenuto l'assoluzione dalle accuse mosse per le presunte armi a disposizione. La procura generale aveva invece chiesto la conferma di tutte le pesanti condanne di primo grado, ritenendo fondata la ricostruzione condotta dagli inquirenti. I giudici hanno comunque riconosciuto l'esistenza di un gruppo attivo nel mercato locale della droga. Quello decisione appello è uno dei filoni dell'inchiesta che fece luce sui possibili canali di approvvigionamento economico del clan Rinzivillo, a cominciare dagli introiti della droga?